Poi, tutti dalla polizia di Stato, ecco, mi dice, tutta la squadra raggiungerà Piazza Perretto e accenderà, e accenderà il bracere olimpico. Il bracere olimpico. Un po' arriva in quest'ora, e con l'arrivo in quest'ora si partirà pure per il bracere. Intanto ringraziamo a 9.15 tutti voi. Il bracere, il bracere, il bracere, il bracere. Eccolo, immagino, spero di avere l'originale, perché l'ho fatta con il nostro cellulare. Non sto riproduziondo, ma non riesco a passare. Voi, dice s'impressa che è fatto il bracere. Il nostro corso gratuito è un po' di più grande. Grazie a quanti hanno permesso questa pianta manifestazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.